Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Siegfriedo Millequadri. In questo video vi presenterò un'opera celeberrima, I coniugi Arnolfini, un dipinto realizzato da Jan van Eyck nel 1434. Nel corso del video andremo ad analizzare ogni dettaglio di quest'opera e scopriremo la cura fiamminga nella rappresentazione della realtà. Il dipinto nel corso dei secoli è stato oggetto di studio e vi sono tantissime interpretazioni. Cercherò di affrontarle e cercare di arrivare a una qualche conclusione, lasciando poi a voi ulteriori occasioni di approfondimento. Buona visione! I coniugi Arnolfini è uno dei quadri più studiati della storia ed è avvolto, come molte delle opere più celebri della pittura, da un velo di mistero, come se ci fosse un significato nascosto che non siamo mai riusciti a cogliere completamente. La tela è stata più ripresa e indagata, centimetro per centimetro, dagli studiosi alla ricerca di indizi, di dettagli che ne svelassero l'enigma. Ma più si prosegue nell'indagine, più vengono rinvenuti documenti storici e più si aprono nuove possibilità, nascono nuove congetture. La mia impressione è che non verremo mai a capo completamente del significato dell'opera. Ugualmente ritengo che soffermarsi su questo dipinto possa stimolare il nostro spirito di osservazione ed il desiderio di approfondire la sua conoscenza. I coniugi Arnolfini ci offre un'ottima occasione per approcciare un'opera d'arte con curiosità, desiderio di conoscenza, nel rispetto degli studi fin qui condotti dagli specialisti. La cosa certa è che il quadro è ricchissimo di dettagli. Possiamo presumere che Van Eyck, con la cura da miniaturista che lo ha reso celebre, non abbia lasciato nulla al caso e che ogni oggetto raffigurato nella stanza, ogni gesto dei suoi protagonisti abbia un significato preciso, soprattutto se ricondotto ai codici simbolici dell'epoca in cui è stato realizzato. Proprio perché il dipinto ha avuto numerose interpretazioni, mi limiterò nel video a riprendere per quanto possibile le ipotesi più diffuse, riallacciandomi ai dati oggettivi suggeriti dalla vista del quadro. Ognuno di voi potrà poi trarre le proprie conclusioni ed approfondire lo studio dell'opera che vanta una ricchissima bibliografia. Johannes Van Eyck è una figura fondamentale per lo sviluppo della pittura nordica. Proprio mentre in Italia gli artisti conquistavano la rappresentazione della realtà attraverso un approccio scientifico, grazie ad una composizione che tenesse conto della prospettiva razionale e grazie allo studio dell'anatomia, Van Eyck conquista la realtà attraverso la pittura d'olio. A quel tempo era soprattutto diffusa la pittura a tempera. Attraverso l'introduzione dell'olio, utilizzato per miscelare i pigmenti di colore estratti da minerali e fiori, i tempi di stesura potevano essere allungati ed era quindi possibile estendere il colore attraverso velature successive ottenendo sfumature più ricche e varie, arrivando ad una riproduzione molto sofisticata della realtà. In questo dipinto, conosciuto come ritratto d'uomo conturbante rosso, datato 1433, alcuni studiosi riconoscono un autoritratto dello stesso Van Eyck. Non ci sono notizie certe, ma solo indizi. Il copricapo rosso appare infatti anche in altre opere, nelle quali pittore si sarebbe autoritratto, ma solo indirettamente, attraverso il riflesso di uno specchio, proprio quello presente nei coniugi arnolfini, che analizzeremo più avanti, e poi attraverso il riflesso di un'armatura all'interno di un altro capolavoro del pittore, la Madonna del canonico Van der Paele, conservata a Bruges. Il turbante rosso è stato quindi interpretato come un segno distintivo del pittore. Van Eyck è stato tradizionalmente considerato l'inventore della pittura d'olio, ne scrisse anche il Vasari, ma è più corretto dire che fu, anche insieme al fratello Hubert e ad altri fiamminghi, il pittore capace di affinare questa tecnica e di utilizzarla per la realizzazione di quadri, portandola a livelli straordinari, mai raggiunti prima. Grazie alla cura, alla pazienza ed al talento di Van Eyck, la rappresentazione verosimile della realtà poteva essere raggiunta con precisione sbalorditiva. La cura del dettaglio, tipica delle pagine miniate, fiamminghe e borgognone, divenne accessibile anche in opere più grandi, talora monumentali, come ad esempio nel Politico dell'agnello mistico, capolavoro assoluto di Van Eyck, conservato a Gand, che vediamo in questa immagine. La pittura fiamminga e quella italiana prendono due strade diverse e come suggeriva il grande storico dell'arte Federico Zeri, la stessa lettura delle opere diverge. Un dipinto rinascimentale italiano va letto prima nell'insieme della concezione e della composizione razionale e poi successivamente nel dettaglio. Un dipinto fiammingo va letto prima nel particolare per poi passare all'insieme. Seguendo questo spunto cercherò di analizzare i coniugi arnolfini nei molteplici dettagli che lo compongono, ma prima di farlo mi sembra corretto almeno dare una descrizione sommaria dell'insieme contestualizzando l'opera per poi ripercorrere nel corso del video quasi centimetro per centimetro il quadro, proprio come aveva fatto Jan Van Eyck realizzandolo con grande cura, porzione dopo porzione, senza trascurare alcun dettaglio. Il titolo con cui è conosciuta l'opera è i coniugi arnolfini e questa definizione risale al 1857 quando due storici dell'arte, Giovanni Battista Cavalcaselle e Joseph Archer Crowe, riconobbero nella coppia rappresentata Giovanni di Arrigo Arnolfini e la moglie Giovanna Cenami. Gli arnolfini erano ricchi mercanti originari di Prato che si stabilirono a Bruges intorno al 1420 per poi restarvi per circa mezzo secolo. Nel 1934 un altro eminente critico, Erwin Panofsky, aggiunge che nel quadro si starebbe celebrando un rito. L'interpretazione è apparentemente credibile. Vediamo una coppia che ci accoglie in una camera con un letto a baldacchino, l'atmosfera è solenne, l'uomo e la donna vestiti elegantemente, si tengono la mano, la donna stessa sembra essere incinta, pare di assistere ad una sorta di promessa di fedeltà o di matrimonio, un momento solenne che il pittore immortala suggellandolo. Secondo questa sommaria interpretazione, Van Eyck avrebbe ricevuto la commissione da Giovanni di Arrigo Arnolfini per ufficializzare, attraverso un'istantanea fedelissima, rappresentata appunto dal quadro, la promessa di matrimonio o addirittura la celebrazione del matrimonio stesso. Vedremo nel corso del video come queste interpretazioni siano state messe in crisi. Ma proviamo a scoprire insieme il quadro, che è un olio su tavola, realizzato nel 1434, misura 82 per 60 centimetri ed è conservato alla National Gallery di Londra. Alla fine dell'analisi delle varie parti dell'opera proporrò alcune tra le più recenti interpretazioni sul significato dell'opera. Per iniziare l'analisi proviamo ad osservare l'asse centrale del dipinto, lungo il quale corrono molti elementi interessanti. Partendo dall'alto vediamo un lampadario, una grande firma, uno specchio convesso, le mani della coppia che si incontrano, un sedile rosso, degli zoccoli o ciabate rosse ed in primo piano un cagnolino dagli occhi molto vispi. Visto che è l'unico che ci guarda, ricambiamo subito l'attenzione. Si tratta di un griffoncino e la sua presenza in casa è interessante. Storicamente il ruolo del cane era associato all'uomo e quindi alla caccia, alla guerra, alla guardia. Questo invece è un cane da compagnia, di piccola taglia, destinato soprattutto alla vita domestica e quindi alla donna. Spostandoci sempre sull'asse di simmetria centrale del quadro, soffermiamoci ora su una vistosa scritta, in latino, che recita Johannes de Eich Fuit Ic 1434, che tradotto significa Johannes de Eich fu qui. Questo è abbastanza strano, perché un pittore, quando firmava l'opera, e non capitava spesso all'epoca, poteva più semplicemente e correttamente scrivere Johannes de Eich lo dipinse, oppure lo realizzò, lo fece, nel 1434. Cosa significa allora quel fu qui? Perché sottolineare la propria presenza? Torniamo a quanto accennato prima, e cioè all'ipotesi che il dipinto raffiguri una promessa di fedeltà, o proprio celebri un matrimonio. leggendolo in questo modo, possiamo pensare che il pittore, apponendo la propria firma, abbia veramente agito come una sorta di notaio, che certifica con la propria presenza quanto sta accadendo. Il quadro, così realistico, nella rappresentazione del reale, avrebbe il valore di un documento ufficiale. Ma la presenza del pittore nel quadro non si limiterebbe alla firma. Se spostiamo l'attenzione poco più in basso, notiamo uno specchio convesso, un vero colpo di genio di Van Eyck che raddoppia i punti di vista. Grazie allo specchio non solo abbiamo accesso alla stanza, ma vediamo anche quel che succede al di qua del quadro, proprio dove siamo posizionati noi osservatori. All'interno dello specchio vediamo infatti non solo la coppia di spalle e gli arredi intorno, dal letto al lampadario alla panca vicino alla finestra, ma anche due persone che si trovano appena più avanti della porta d'ingresso. Non le distinguiamo bene, ma la sensazione è che una sia una donna con un vestito dello stesso azzurro della protagonista e l'altra sia un uomo con un compricapo rosso, esattamente proprio quel turbante rosso che potrebbe indicarci che una delle due figure sia proprio il pittore. Anche perché il pittore, proprio da quella posizione, avrebbe dipinto la scena, per quanto non vediamo allo specchio traccia degli attrezzi da lavoro. Lasciamo un attimo altri dettagli lungo l'asse centrale del quadro e concentriamoci sui due protagonisti. La prima cosa che colpisce sono gli abiti molto eleganti, ma anche molto pesanti. Sono indubbiamente abiti invernali. Teniamolo a mente, perché quando guarderemo fuori dalla finestra ci accorgeremo che è tarda primavera. L'uomo porta un lungo mantello di pelliccia ed un vistoso cappello. Quello che sorprende, però, è il gesto con la mano destra, forse un saluto solenne o addirittura una benedizione. Qualcuno l'ha interpretato come un gesto simile a quello dell'angelo dell'Annunciazione. In effetti, nel quadro, ci sono diversi riferimenti all'iconografia presente nei dipinti fiamminghi che rappresentano l'evento biblico dell'Annunciazione, dal letto baldacchino alla candela accesa all'apparente stato gravido della protagonista. Osserviamo la donna. Anche lei porta un vestito molto pesante e anche particolare, con maniche molto larghe ed uno strascico lunghissimo. È stato ipotizzato che per realizzare questo abito si sarebbe dovuta fare una vera strage di animali e da pelliccia. Quello che è certo è che gli arnolfini erano molto benestanti e in ogni dettaglio del quadro, dagli abiti al tappeto ai frutti posti vicino alla finestra, osserviamo una grande ostentazione dei propri mezzi economici. La donna solleva una parte del vestito all'altezza del ventre e a questo punto ognuno di voi farà la sua valutazione personale. La donna è incinta o non lo è? In altre parole, il vestito sollevato è sufficiente per ottenere l'effetto di rigonfiamento del ventre oppure davvero sotto il vestito c'è il corpo di una donna in attesa? Inoltre mi chiedo e vi chiedo perché Van Eyck fa sollevare il vestito alla donna? A che pro? Se metri di strascico restano a terra? È possibile che questo sia un intimo gesto protettivo oppure un gesto di auspicio verso una gravidanza sperata? Qualunque sia la risposta la donna tende la mano destra e l'uomo la regge con il palmo della mano sinistra tra i due c'è un contatto fisico preciso solenne per quanto entrambi rivolgano lo sguardo altrove sono sguardi abbastanza gelidi distaccati persi e in fondo malinconici si respira un clima quasi funereo che come vedremo ha ispirato altre interpretazioni ma torniamo per un momento allo specchio convesso Van Eyck abbiamo visto cura ogni dettaglio come un miniaturista se guardiamo lo specchio ci accorgiamo di due cose la prima è che la coppia non sembrerebbe tenersi per mano le due braccia si tendono leggermente per incontrarsi ma in corrispondenza delle due mani non vediamo una pennellata che possa farci pensare alla carnagione la seconda è che davanti a loro non c'è il cane ci sono due possibilità o Van Eyck ha deciso di trascurare questi dettagli cosa che appare strana basta vedere la cura infinitesimale con cui dipinge la cornice dello specchio stesso dove sono rappresentate alcune scene della vita e della passione di Cristo oppure ci vuole dire qualcosa ma cosa potrebbe volerci dire allora forse e questa è una mia ipotesi il pittore vuole comunicarci che il dipinto e lo specchio ci mostrano due momenti diversi uno legato all'immagine principale del dipinto è il momento solenne con le due mani unite ed il cane presente simbolo di fedeltà l'altro quello allo specchio è un altro momento avvenuto prima o dopo quello solenne immortalato dal pittore e per questo allo specchio non si vedrebbero gli attrezzi del pittore in azione ora riflettiamo all'interno della finzione rappresentata nel quadro perché ogni quadro è comunque una finzione frutto del talento e dell'immaginazione dell'artista cosa è più vero la scena principale o quella riflessa allo specchio lo specchio è certamente imparziale fa il suo dovere di riflettere tutto quello che gli sta intorno quindi nella finzione complessiva del quadro quello che vediamo allo specchio dovrebbe essere più vero più oggettivo di quel che è rappresentato nella scena principale nella realtà più vera del quadro quella allo specchio la coppia non sembra tenersi la mano ed il cane non è certamente presente cosa significherebbe tutto ciò lo vedremo più avanti non potevo mancare di presentarvi il dettaglio degli zoccoli che in realtà sono dei soprascarpe perché l'uomo è dipinto nella stanza con le sole calze che però dovrebbero aver avuto secondo la consuetudine del tempo una suola rigida gli zoccoli dell'uomo riportano segni di fango è possibile quindi che se li sia tolti semplicemente per non sporcare la stanza o anche per rispetto verso la sacralità domestica quelle della donna sono ciabatte decisamente più eleganti e sono poste in fondo alla stanza più all'interno della casa il ruolo della donna anche simbolicamente è legato alla vita domestica il lampadario in ottone è di per sé un eccezionale brano di pittura forse uno dei lampadari più belli della storia dell'arte insieme a quello presente nell'allegoria della pittura di Vermeer in descrizione trovate il link al video che ho dedicato al pittore olandese oltre all'eccezionale sensibilità nella resa dei riflessi del lampadario l'aspetto interessante sono le candele se osserviamo vi è una sola candela accesa questo è stato interpretato in due modi da una parte la unicità indicherebbe il legame indissolubile della coppia due anime un unico amore un unico tetto una sola candela dall'altra alcuni studiosi hanno notato come vi sia una seconda candela consumata ed ormai spenta della quale resta solo qualche traccia di cera colata questa si trova nella parte destra sopra il capo della donna mentre l'unica candela accesa si trova a sinistra sopra l'uomo teniamo a mente anche questo particolare perché quando tireremo le somme vedremo come questa candela consumata venga interpretata addirittura come segno della morte già avvenuta della donna rappresentata anche la finestra è molto interessante notiamo nella parte superiore la vetrata a rulli con i caratteristici occhi di bue segno anche questo di grande potere economico erano infatti rare le finestre di vetro all'epoca un aspetto interessante è lo scorcio sul paesaggio circostante che ci mostra nel dettaglio un albero di ciliegie questo ci porta direttamente al tempo della maturazione che avviene in tarda primavera cosa che contrasta con gli abiti invernali indossati dai due protagonisti è evidente che Van Eyck prediliga non una coerenza formale ma di significati il ritratto è più vicino ad una allegoria che ad una scena reale gli abiti eleganti sono funzionali a mostrare il potere della famiglia mentre le ciliegie potrebbero rappresentare l'amore coniugale che dà frutti vediamo poi delle arance una è sul davanzale della finestra ed altre sono poste sulla panca sotto la finestra le arance arrivavano dal sud ed erano costosissime pertanto anche esse sono un segnale dello status e della coppia che era parte dell'emergente ceto borghese le arance altrissì sono interpretabili nei paesi nordici come frutto del peccato come mela di Adamo e quindi la loro presenza rappresenterebbe un monito un brano di pittura molto bello che desidero mostrarvi sono le arance sulla panca un brano di natura morta dove la forma sferica dei frutti contrasta con le linee nette circostanti la presenza del letto baldacchino che vediamo nella parte destra del quadro era diffusa anche nelle stanze di rappresentanza per sedersi con gli ospiti quindi non dobbiamo pensare necessariamente di trovarci in una camera da letto l'aspetto che risalta è il colore rosso del letto un rosso molto acceso che è complementare al verde del vestito della donna queste sono le tinte dominanti nel quadro che nel complesso invece caratterizzato da tinte neutre nella testiera del letto vediamo intagliata una figura femminile con un drago per questo motivo potrebbe essere Santa Margherita patrona delle partorienti figura che è associata ad un drago oppure visto che di fianco è posta una spazzola potrebbe essere Santa Marta patrona della casa vi sono poi nel quadro ulteriori dettagli ad esempio un rosario appeso il bellissimo tappeto ed altre sculture intagliate che vanno a completare la ricca simbologia e per tutti questi elementi vi rimando alla sterminata quantità di studi presenti anche in rete tornando ad una visione di insieme notiamo come il quadro abbia un potere ipnotico quasi cicalamita all'interno della stanza questa sensazione di essere risucchiati dentro la tela deriva dall'applicazione di diverse linee di fuga ne sono state contate quattro questo espediente rispetto alla prospettiva scientifica tipica del rinascimento italiano permette non tanto di collocare perfettamente nello spazio ogni oggetto quanto di metterne in evidenza qualcuno e in questo caso di avere l'impressione proprio di essere avvolti dall'opera e di essere catapultati all'interno della stanza dopo aver analizzato ogni parte del dipinto torniamo ora al punto di partenza dicevo all'inizio del video che il quadro realizzato nel 1434 parrebbe immortalare un momento solenne una promessa di matrimonio tra Giovanni Arnolfini e la moglie Giovanna Cenami nel 1994 uno studioso di storia navale Jacques Paviot scopre casualmente che il matrimonio tra i due sarebbe stato celebrato nel 1447 quindi 13 anni dopo la realizzazione del quadro ed anche sei anni dopo la morte di Van Eyck qualcosa a questo punto non torna gli studiosi si rimettono al lavoro e si scopre che sempre a Bruges negli stessi anni viveva un altro membro della famiglia Arnolfini che di nome faceva Giovanni di Nicolao e che era sposato con Costanza Trenta purtroppo si scopre che Costanza Trenta morì nel 1433 quindi un anno prima della realizzazione del quadro che è chiaramente firmato con la data 1434 ma ecco che entra in scena una studiosa Margaret Koster che sostiene che diversi particolari dell'opera inducono a pensare che Van Eyck abbia realizzato un'opera postuma dopo la morte della donna dopo la morte di Costanza Trenta proprio per ricordarla la candela consumata ad esempio prosta sopra la sua testa starebbe a dimostrare che la sua vita si è già consumata in effetti c'è una sottile aria mortifera che pervade il quadro soprattutto nell'espressione dei due protagonisti e qui entra in scena un ulteriore studioso Jean-Philippe Postel un medico appassionato d'arte che ha scritto pochi anni fa un libro che va ancora oltre Postel insiste sul fatto che lo specchio non registri di quello che sta accadendo soprattutto il contatto delle mani e perché secondo lo studioso quella della donna sarebbe addirittura un'apparizione una sorta di fantasma che appare all'improvviso ci accorgiamo quindi che il problema degli esegeti di fronte ad un quadro di tale complessità è quello di trovare una spiegazione coerente che rimetta a posto tutti i particolari cosa che appare veramente difficile se non impossibile la mia opinione è che il dipinto sia oltre che il ritratto di una coppia e non sappiamo quale coppia sia piuttosto una complessa allegoria sulla fedeltà coniugale e le virtù domestiche per completare la rassegna tornando alla questione della identificazione dei due protagonisti secondo altri studiosi la coppia rappresentata non sarebbe riconducibile alla famiglia Arnolfini ma si tratterebbe niente meno che di un ritratto di Jan Van Eyck e della moglie Margareta della moglie si ha un ritratto certo che vediamo nell'immagine ora conservato a Bruges e risalente al 1439 cinque anni dopo la realizzazione dei coniugi Arnolfini notiamo in entrambi i quadri che le donne hanno i capelli raccolti in corna di seta ma lascio a voi valutare eventuali somiglianze esiste anche un ritratto maschile realizzato da Van Eyck normalmente conosciuto come ritratto di Giovanni Arnolfini conservato a Berlino che vedete nell'immagine e che rappresenta palesemente lo stesso uomo del capolavoro della National Gallery che abbiamo analizzato nel video il problema è che non si hanno informazioni certe sulla persona ritratta avrete sicuramente notato che l'uomo ha un turbante rosso ma allora chi è quest'uomo Evan Eyck riconoscibile dal turbante o è proprio un Arnolfini abbiamo dunque analizzato ogni porzione di questo dipinto e vi ho presentato le più diffuse interpretazioni da parte degli studiosi chi sono dunque i due personaggi protagonisti del quadro sono riconducibili alla famiglia degli Arnolfini e se sì a quale dei Giovanni Arnolfini che abitarono a Bruges oppure potrebbe essere la stessa famiglia cioè Evan Eyck e sua moglie cioè la famiglia del pittore non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai fatemi sapere secondo voi qual è la interpretazione più corretta e cosa pensate di questo quadro straordinario se vi è piaciuto il video mettete mi piace ed iscrivetevi al canale fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Ian Van Eyck di questo video e vi aspetto alla prossima